Dopo il mio incremento sul petrolio, il mercato ha creato una price action di ritracciamento e in questo video andiamo a vedere quello che ho fatto per gestire questa posizione. Ben ritrovato, ben ritrovato in questo nuovo video, sono sempre da Mianosito Price Action Trader Indipendente, questa è Professione Trader, la rubrica dove settimanalmente racconto il mio diario di trading con un conto reale da 10.000 euro che ho aperto come fase esperienziale del percorso di Accademia all'interno di Airforex. Sono quindi sul grafico del petrolio che è il mercato dove ho focalizzato la mia attenzione nell'ultimo periodo e dove ho una posizione ormai dal 28 marzo scorso, quindi parliamo di una posizione che rimane per quanto riguarda la mia gestione amministrativa all'interno del mese di marzo, quindi nel primo trimestre dell'anno. Quindi, posizione che appunto è entrata, sono entrata, diciamo, è entrata praticamente la 82-41 a fine marzo e successivamente dopo questo rialzo e dopo questo setup in side takeout ho incrementato, quindi venerdì scorso, dopo la rottura di questo livello, quindi ho un secondo ingresso su questa posizione che mi porta in questo momento a un prezzo medio di carico che è pari a 83,80. Il mio stop complessivo di posizione è 78,80. Allora, che cosa succede? Per fare questo incremento, come dicevo nello scorso video, ho dovuto fare una gestione per quanto riguarda la posizione, questa posizione in essere, perché inizialmente io avevo questo primo ingresso, quindi possiamo vedere anche splittato, quindi un primo ingresso di 0,33 mini a 82,41 con uno stop iniziale a 74,90. Quindi io avevo inizialmente 250 euro tra 82,41 e 74,90, eccolo qui, e nel momento in cui è entrato il mio nuovo ordine, che poi in realtà ho inserito manualmente perché nello scorso video pensavo di aver inserito l'ordine, probabilmente mi sono dimenticato di cliccare su buy, nella giornata di venerdì, quando ho visto la rottura, ho controllato la posizione e ci trovavamo 86,50, forse era l'ora di pranzo, comunque più o meno dopo l'ora di pranzo, e ho inserito questo ordine praticamente 86,50, ci trovavamo su questi livelli, l'ho inserito manualmente, e quindi ho inserito questi 0,17 che sostanzialmente sono 130 euro di rischio da questo livello a 78,80, ok? Perché 130 euro di rischio? Perché ho spostato quindi lo stop della prima posizione da 74,90 a 78,80, quindi lo stop passa da 250 circa a meno 120 euro, ok? Quindi abbiamo i meno 120 euro qui, quindi qui abbiamo 130 euro, e questo come totale fa sempre 250 euro di rischio, quindi il mio rischio è 250, per mantenere questo rischio di 250 e aggiungere 0,17 mini, ho spostato quindi il mio stop comunque molto ampio rispetto a questo setup, quindi lo metto sotto questi minimi, e mi permette, per esempio anche dopo aver fatto questo incremento, di rimanere in posizione tranquillo, senza azioni repentine, anche dopo una pinbar, che è graficamente molto interessante, che però se andiamo ad osservare, è una pinbar che sul grafico non è andata a fare una falsa rottura dei massimi precedenti, mi spiego meglio, cioè, avesse fatto qualcosa del genere, per esempio, era un po' diverso, cioè un allungo, anche addirittura verso gli 89, e poi un rientro verso il basso, quindi arrivare già in area 89, che sappiamo essere una zona da monitorare molto attentamente, e con un rientro all'interno di questa zona, molto probabilmente, mi poteva anche far pensare di chiudere l'incremento, o chiudere addirittura la posizione e valutare uno swing. Invece il mercato rimane nella sua volatilità, crea questa price action di ritracciamento, è uno stop abbastanza largo, mi permette di ragionare. Successivamente, quindi venerdì, ho fatto questo ingresso, la settimana come ha chiuso, chiude praticamente in questo modo, con una candela inside, un indecision, che, insomma, non modifica quello che è, diciamo, la forza del mercato in questo momento, chiaro che ci può essere anche il ribasso, però ho uno stop per questo motivo. E quindi che succede? La domenica, questa è la candela della domenica, apre a 85,40, il mercato poi va giù, perché questo è lunedì, va giù fino a 83,59, poi praticamente richiude in zona 85, e vediamo un po' ieri ha chiuso a 85,34. Ok. In questo momento vediamo che, ecco, quindi, no, cosa crea? Crea a questo punto, questa, molto interessante, è una pinbar di falsa rottura, ha falsato praticamente tutta questa area qui, quindi questi minimi, molto interessante, perché questo setup, se adesso è stato convalidato, ma dovesse, insomma, continuare questo long, insomma, è un buon setup di conferma di quello che è il trend che si è instaurato nelle ultime settimane sul petrolio. Ok. In questo momento è il ritracciamento. Può succedere effettivamente che questa pinbar venga anche fallita, però rimango, come dire, rimango sempre abbastanza tranquillo, nel senso che avendo lo stop, questa è la pinbar, io in realtà il mio prezzo, meno di carico, ce l'ho proprio a 83,80, poco sopra questo minimo. Lo stop in realtà ce l'ho a 78,80, ho la possibilità di valutare, supponiamo che questo oggi da qui va a chiudere qui sotto, magari poi va a fare un'ulteriore giornata, domani negativa, e poi un ritorno, un ritorno verso l'alto di questo tipo, sarebbe molto interessante, una bella conferma, che, insomma, potrebbe a quel punto farmi valutare, addirittura dopo il primo incremento, il secondo incremento, con sempre la gestione dello stop, cioè dovrei andare sempre a valutare quello che è il mio rischio, cioè io sto investendo sempre i miei 250 euro, come ho fatto adesso, dovesse crearsi una price action di conferma, se mi si sballa, diciamo, la gestione del rischio, non andrò sicuramente a farlo, piuttosto rimango in posizione e seguo le dinamiche di prezzo. Quindi al momento, insomma, rimango in posizione, questo ribasso che c'è stato non è niente di sconvolgente, il prezzo quindi tiene, torna sopra gli 85, al momento è il ritracciamento, vediamo come si andrà a muovere il mercato, come al solito. Per quanto riguarda, diciamo, la decisione di rimanere più tempo su questo mercato, c'è in questo momento a favore il fatto che il petrolio è un mercato che continua in realtà ad avere, eccolo qui, il petrolio, uno swap positivo. Cosa vuol dire? In questo momento, oggi è 1.1, questa notte andrò a ricevere 1.1 euro per ogni CFD mini che ho, quindi la metà in questo caso, io ho 0.5, di CFD mini di petrolio che ho in posizione quindi in portafoglio. Questo che cosa significa? Effettivamente lo possiamo anche andare a vedere, no? Nella mia posizione, nella posizione in essere, che cosa significa? Se io vado a vedere le posizioni, i dettagli delle mie posizioni, possiamo vedere come effettivamente sul petrolio, eccolo qui, la posizione del 28 marzo, quindi dove ho aperto 0.33 mini, ha in questo momento un attivo di, a parte, diciamo, i 70 euro che in questo momento sta avendo in profitto la posizione, abbiamo questi 9,99 euro, cui si aggiungono 0.85 di swap attivo anche della seconda posizione, dell'incremento che era 0.17. Quindi, diciamo, è un, come dire, un interesse attivo, quindi che ricevo sostanzioso, che in questo caso permette di calcare un possibile trend long, avendo anche questo interesse attivo, che anziché andare a erodere la posizione, in realtà è positivo, quindi è avvantaggio, avvantaggio del proprio posizionamento. Un'ulteriore considerazione sulla piattaforma, bisogna sempre considerare questo. Allora, nel mercato del petrolio, possiamo andare a vedere che la size minima, come abbiamo visto nello scorso video, è 0.25. Quindi, che cosa ho dovuto fare? Ho dovuto, nel momento in cui io ho fatto l'ingresso a 86.50, per arrivare a 0.17 mini, io ho fatto 0.25, meno 0.17, ho decurtato praticamente 0.08 mini contratti dalla mia posizione. Quindi, sono andato praticamente sul, diciamo, sulla scheda delle posizioni in essere, sono andato a fare chiudi posizione, e quindi, per esempio, ho chiuso 0.08, quindi ho chiuso quegli 8 mini per mantenere questo mio position sizing. Si può andare a vedere sempre dalla cronologia delle transazioni, quindi sempre nella giornata del 12, andiamo a vedere gli ultimi 7 giorni, magari solo i 3 di chiusura, così abbiamo uno storico pulito. Eccolo qui, 12 aprile, io ho chiuso 0.08, che, va bene, ho aperto a 86.50, il tempo di fare l'operazione, in questo caso, portato 11 centesimi. Quindi, diciamo, è il giochino numerico che ho dovuto fare con la posizione per mantenere da 0.25 i miei 0.17. Il perché 0.17 è sempre spiegato dal fatto che io avevo, appunto, da gestire il mio rischio e quindi il mio position sizing doveva essere sostanzialmente adeguato al mio rischio. Per calcolarlo, per calcolarlo, l'abbiamo visto sempre la scorsa volta, l'avevo calcolato, da qui avevo inserito i miei 130 euro nel mio size calculator, che erano circa 0.16, ho inserito 0.17 per far tornare una posizione su 0.5 e cambia in realtà poco su queste size e quindi ho un nuovo controvalore di circa 1.400 euro che si aggiunge al precedente. Che significa, quindi, questa è la mia posizione sul petrolio, io avevo un controvalore iniziale di circa 2.700 euro, ho aggiunto altri 1.400 euro e quindi in questo momento io sono esposto sul mercato con circa 4.200 euro di nozionale, poco più e poco meno, che è quindi la reale esposizione che ho in questo momento sul mercato con il mio posizionamento. Ok, quindi questo è quello che sto facendo su questo mercato, chiaramente seguirò la price action sul petrolio nelle prossime giornate con uno stop quindi di posizione sempre a al momento 78.80 che mi fa appunto rimanere in posizione abbastanza tranquillo, questa è la situazione sul settimanale, quindi time frame che sicuramente bisogna sempre avere chiaro, il motivo per cui appunto ero rimasto in posizione era il fatto che chiudevamo questo weekly sopra questi massimi, insomma lasciavamo questa zona degli 82 zona di vendita, quindi settimana scorsa rimaniamo inside con questo indecision al momento rotto il minimo si potrebbe creare un ulteriore ritracciamento ma sarebbe molto interessante chiaramente per la mia posizione vedere l'allungo quindi la continuazione di forza e quindi di questo trend questo però ovviamente sarà oggetto di discussione eventualmente del prossimo aggiornamento video io con oggi avrei terminato quindi questo era un aggiornamento della mia posizione abbiamo visto quindi sostanzialmente il mio incremento quello che ho fatto è sostanzialmente gestire il mio rischio quindi spostando lo stop della prima riducendolo per permettermi di fare un incremento mantenendo lo stesso rischio quindi ho esposto maggiormente il mio conto quindi mi sono esposto con un 50% di nozionale in più e adesso rimango a guardare sul mercato cerco di capire cosa succede devo dire che a livello personale avere lo stop sempre così ampio anche sull'incremento mi fa rimanere veramente molto tranquillo tant'è che non ho noto diciamo noto che effettivamente da quando uso lo stop così ampio ho veramente molta meno necessità di andare a guardare le posizioni se non se non diciamo alle 13 o alle 17 anche se mi sto cercando di abituare alle 19 perché sto usando il 4 ore tra l'altro ho rimosso il pulsantino anche 4 ore su questa su questa su questa interfaccia per evitare di guardare 4 ore 6 ore quindi guardo esclusivamente il 6 ore ho aggiunto il pulsante trimestrale per avere una view veramente di lungo periodo però il 6 ore ecco in questo caso è una posizione che ho qui in essere quindi mi porterà per esempio a guardare alle 13 il diciamo l'aggiornamento del del mio del mio posizionamento io come sempre ti esorto a lasciare un commento a questo video se ti è piaciuto di continuare a guardare i video su su questo canale sia di questa rubrica ma anche di di arduino e la playlist per esempio sulla price action c'è veramente tanto materiale gratuito su su questo metodo se ti è piaciuto il video magari lascia un like e nel frattempo ti saluto e ti auguro soprattutto buon trading alla prossima ciao ciao